Preghiera del mattino O Dio, Tu che elevi il nostro essere con il dono della nuova vita che nasce dalla risurrezione e che fa del nostro cuore un tempio con il Figlio e lo Spirito Santo, concedici oggi e sempre di vivere in unione con Maria, la Vergine della Visitazione. Fa che anche noi, come Lei, siamo sotto la Sua protezione i Tuoi tabernacoli e che possiamo portare a tutti gli uomini la vita nuova che viene da Te. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.